6 0 3 la signora ha chiaramente gli occhi chiusi questa signora, non mi sta guardando 14 giorni sa cacanno cadetto purpose visiting ok, che prima mi ci ha fregato tipo 1 visiting doveva lavorare ho detto visiting e l'ho fatta posta come uno stronzo match in data ahia documenti diversi error, error, error error, error, detain wow wow what is this? hey fantasmi no ma i fantasmi no fantasmi oh ma c'è il timbro su tab è arrivata una signora cinese con le codine che ha fatto verificando questa è la signora cinese and keep them safe today and being followed by an impostor they pretend to be from the minister of information but it's a lie if they ask for document they give this instead do not mix them up porco ma sono uguali allora uno me lo metto qua e uno me lo metto di la ahah quello finto è a destra ricordatevelo ci metto la ci metto la ci metto la stella di eddick sopra così allora non va a dio ahah transit e quattordici giorni c'ha senso boh vabbè evidentemente si documento o guardi almeno piano ah ma che cazzo canti la domanda mia fortissimo entro le orecchie di lì l'improvviso allora non è solo quanto gioca oso canti cantate comunque in continuazione united federation c'è la boston no non è oddio quando non è oddio in galera tantissimo e vai allora boston non ci sta puttanone puttanone babbo natale eh don't know anything detain e so tre e so già cinque crediti al prossimo so dieci crediti cazzo poi non te li porto tanto come no oh e lei si che me li da dai un po' non portarmeli mi dice che i cazzi soli da i cazzi soli da fa a me ne frega tanto è più divertente a portarli a gulag dove cazzo vanno vabbè che non ti guarda nemmeno e non fa niente non lo fa per lavorare health care dic this dic this chino ciao vai il prossimo come si chiama questo muore ricci no vai via andi voglio che schifo capelli di allora sto paper please sta per partire come tatiana tatiana e vai quella tatia si chiamava questo chi è tatiana questa amica amica schifosa io vedo il federico list si dice là quindi ok in entrare vai vai I start to work with you next ma hanno tolto paper please da dove l'avevi scaricato tu niente i soldi grazie perfect mi ha dato sia i soldi e gli ho dato i commenti falsi oh 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 l'ho scaricato da the paradox no da skid row bla bla non va non va tutto encrypt non va esatto non va il link il server offline io lo stavo su mega per dazio siccome non l'ho upato quindi se no ti davo quello quindi per il momento niente Trovo la da qualche altra parte Su 30 mega Scrivi Paper please Mediafire Trovo la versione Da 3 giga Non lo so Repacca da 3 giga Hey Handsome Allora Che detto Dove cazzo viene questo? Visit Will be only 2 weeks Ok 14 giorni Sembra giusto Io ne ho già visto Obristown C'è la Skull Forse no Sì invece Mannaggia Palle Cos'è no Trouble Ah Splash Splash Aia C'è scritto F Invece era Mega M Tuomo È troppo basso Sì Drex Korman Ma no Ma questo Ma quante volte Entra Drex Korman Scusa Prima c'era scritto F Tipo due giorni fa C'era scritto F No no C'è il cazzo Ok Entra Mo deve rientrare Andra Uscito Deve rientrare Andra Vonna Che cazzo Cambia la M Diventa Maschio a tutti gli effetti Orvec Vonna Vediamo le date Prima Che cazzo sto fa No Correlation No È la date Di nascita Per gli accione Dai vai My name is Korman Drex You have something Of mine Ah Sì To Very good Read quickly I just thought Case great country Poisoned by corrupt Paranoia The other Sirena Help us Is free A start On his checker The holder Of a six star Ok Do not lose this Che mi ha dato Ah Un 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 Robo Con Una password Lunghista Robocop No È finito il giorno Stal 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 Your family needs medicine Medicina per Medicina per Il figlio E And Di scaldamento No No Di scaldamento Si E Io Non so che Fati Medicina Solo per La moglie No Riscaldamento Al food Ci hanno Tutto Ci hanno Ma me Do le Medicina Dai Tolgo Il riscaldamento E do le Medicina Cibo È peggio Del freddo È arrivato Un tizio Sta arrivà Da dentro Una macchina Le dà La testata La testata Di te se ne va Sono stato troppo bravo È chiaro Ho preso Zero Zero Penalty Ieri Ciao Ehi ma che bell'uomo So So You are inspector Here That make Makes you My responsibility You have Received Five citations Perhaps It was Mistake To Let Let This Motivate You Return In 10 Days Sufficiente Ok Glory Toriscott Appendo al muro Oh Ma se è bello Next Ma scusa Mi ha dato Mi ha dato La scemenza Ad appendere al muro Mi distingo Per la mia Sufficienza E vai Cioè ma questo Questo permesso Non vale per Per Aristotzka Che cazzo vuoi Che cazzo vuoi Blicottero Eh Ahia You have no diplomacy Rights I have full autorizzazione Mi sembra proprio di no Detain One moment Please What are you doing Stop Next Arrestato Baby Porca Putt Tasha I have I have Tascia glorian credo ce l'abbia ma controlliamo si ce l'ha allora tascia bla 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 ok next il taccuino con le regole se le sai lo puoi rimettere a posto facci solo per vedere a questa questa viene a lavorare o bristan scal e già ma scal ok nicolas nicola sonkiro è chiaramente una donna nicola bu accendata chiaramente allora quant'è che si sta andiamo calmi 90 giorni tre mesi ok questo match in data questo match in data il numero di documento matching permesso per lavorare matching ok vabbè che devo fare se si irregola si irregola next ma cosa c'è non matching foto ma ah non ci ho fatto caso tagliaccio ma la foto ma porco ma dov'è il passaporto di raggenda non dalle cose cioè volevo di così ma ma what is passport è incredibile denied mattene a fanculo senza passaporto viene questo può essere qualunque cosa senza passaporto pure un polipo non lo dirà nessuno ma questo sembra giorgi però non lo è immigrating colleccia marcof marcof ci manca la roba ci manca què què quello di què ok where is entry permit sorry a heavy tear ok donna gene si scorda da tipo mezza cosa allora la faccia è uguale il numero documento ok match in data match in data match in data west grassine ce l'ha marcof marcof braga braga marcof a papà 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 april max ho sbagliato no 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 ed è sic star paper please no è sbagliato la vole gene è ready starting tomorrow let him pass allora faccio così sì ma sto fa troppo lager è così che la devo mettere stefany gra graire gragas stefany graire ancora la devo fare entrare è una matta dei terroristi faccio entrare io sono poi i terroristi ma no ho fatto lavoro con i terroristi danno i soldi i terroristi tutti dei soldi stefany bar stefan barlis non è non è era stefany qualcosa vabbè come vuoi stefany grai grai france raga beh basta a fare gioco su gaga spray france stefany caffete stefany bufate stefany che fai è uguale è uguale brindau non so si ma si ma si stefany caffete san marmero san tegra san marmero san tegra san marmero san tegra san marmero grazie grazie san marmero bene perché perché mi senti parlo la foto gliel'ho messo da accettare un po' di lato di un angolino se innaccia la madonna no perché oh 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 io so bravissimo ad annodarlo al testato ad annodarlo per forza andrò po' un mese qui c'è scritto due coglione guarda andate via e tu tu ne hai fatti venti non penso in un giorno solo no è un bagliaccio vedo come sia possibile ci hai avuto culo sì ci hai avuto culo stai a prova tutti di fila a volare proprio complimenti sì sì si fendrà tutti puttano scusa non ti da ti da le penalità dopo un po' metti pena mette lol ahia questo è scaduto signore bello da me si basse chi è che sa giocare GTA in real? Fantonio che scappa per l'ambulante Fantonio matematica e scappa non va bene no no ma femmina questo è chiaramente ma Nixon femmina you are a woman the passport is correct no no sirce mo se non c'è il pen mi alzo e me ne vado te lo giuro che mi alzo e me ne vado quest'uomo non può essere una donna e infatti guarda quando sei stupido e sto pene eh eh che donna che sei mhm mhm allora un attimo F è pene ecco F è pene it is a problem with your documentation what is talking about detain one moment please what is happening no stop fritta down 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 e se ne va ok arrestato l'ultimo della giornata arrestato la famiglia mi da medicina rotto il cazzo non mi dà la pistola l'ho già sparato ma no strage medicina la wife e al son per il resto riscaldamento e slip i i mi dici di tecnici domestic sping 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 expo us no paper paper stefani stefani graire si chiama la tizia ancora cosa c'è stavolta basic rule ormai se vuole combinar 8 weeks 2 mesi 8 wheels numero il documento il nome la foto è questa controllo tutto non mi sfuggerà niente collega queste crest in cielo no no che foto ho appena controllata allora facciamo next secondo me eh che c'aveva stavolta no ahia 21 ma le stai fendere tutti quando fai ride non sei questo vai via ma 21 ma cazzo è possibile 22 no entra bravissimo no perché quanti cazzo citazioni stai a ve troppo eh vabbè giusto sono morti niente che muore eh no c'ho 200 dollari fratello non si mangia non si mangia giusto al figlio non si mangia ok mi rompete il cazzo dopo il wix mi è cindata mi è cindata il nome sefran Nicola ok numero come sefran Imastrola ok colecia vedor odor vai onicia eh onicia ahi next siamo a tre dai passati dodici secondi sono andati in otto che bovo ah ma questo mi sta dai soldi dammi i soldi good morning good morning eh you detain five people people bonus is good they pay ok cinque ma d'altro grazie it's not enough yes i know my wife sick now neighbors press the flu this what left after medicine give you the rest next time non ti preoccupa vai via maybe you detain more people to make it easier eh non c'era sto motivo non è che clicchi non mi compare sempre di tenis sennò stavo arresta tutti perché me ne frega next questa è una signora che ti dà l'orologio se non glielo ridai ti dici ti do l'orologio fammi passà tu gli dici la la fai denai quella si incazza io non rimango qua fino a che non mi ridà l'orologio arriva il poliziotto botta dietro la nuca di coccia per terra te a me si si è perdo match in data no vini no vini eh si 8 weeks ok mannaggia la mano match da cicciabomba è quella allora oh bristan lor nel cazzo ok ma l'entry allora questo gioco è buggato perché io l'entry permit diciamo me lo dà io l'ho controllato glielo ridò attenzione foregoat entry permit ma che cazzo ecco ecco forged significa ah tipo ah ho capito forged no forged l'ho letto male tipo è tipo fatto male tipo l'ho fatto devo vedere devo vedere il timbro il timbro sopra che palle colecia io quando sbaglio ti metto il timbro sopra poi metto uno sopra uno sotto lo strappo a metà mi giusca il culo e ti ho detto quello niente muto the order rises quello nudo dai è una logica discrepanza questa non me li fa perdere guarda il culo come l'ho fatto entrare uno senza guardare e mi è andato liscio che culo non si giova così se lo stai facendo tu e ti stanno morire tutti comunque dillo non so giocare faccio cacà punto ma non faccio cacà ma che cacà è un giocatore ma questo è un maschio è cindato ok è un maschio true glorian repubblica mica c'è true blood si c'è true gloria come lo faccio a capire che un documento è falso scusa è uguale ma vabbè deve avere l'occhio ma l'occhio ma l'occhio dov'è no ho mostrato quello con la moglie ah quello l'ho fatta fuori tantissimo la moglie no please I get killed e l'ho arrestata quindi non si arrestandola salvo tutti scusa la signora se torna indietro se faccio solo deny la signora muore ma si uccide in cella eh succide amica succide lei dice che la uccidono se torna al coso ma va eh no la cosa che dice lei è mi uccidono se torno la città in cui vengo che c'è la mega mega rivolta giusto se faccio deny che se io l'arresto rimane lì rimane aristotka arrestata quindi è salva si elega il merito è zitta tu stia fa passare tutti sta la gente con le granate dietro stia fa passare a vanta giorni aspe non c'è il nome giusto figlio di puttana c'ha più un multiple name ti fa perdere ancora più tempo un cazzo se ne va ma quando sei stupido ma non ti fa vuoi che più ne fai andrà e meglio è appunto eh appunto denied vabbò mica più ne fai andrà meglio è si ti conta come save si più nei processi oddio che è qua eh ma pure quelli che non fai andrà sono processati welcome to visit 14 giorni si ma non mi hai dato entry permit dammelo is required eh direi proprio di si cicciabombe non mi era denied aspe vediamo se lo riesco a arrestare eh entry permit you have no entry permit i was not able to get one allora ma te lo richiedo un'altra volta se tu mi dici un'altra stronzata di questo io ti arresto almeno vorrei non si sa come si fa ma io non posso insomma ho capito denied vattene a cacare next ce lo vedi next eh